Mister, allora è arrivata la tanto sospirata vittoria che mancava da tre mesi, a fine partita l'abbiamo visto gioire giustamente col pub con i suoi giocatori alla curva, a questo punto sorge, si è messo troppo tardi il Catanzaro a giocare, ci è voluto parecchio tempo e ci sono voluti poi il risultato di Cosenza, l'interpretazione di qualche buona partita e poi finalmente io ho visto un'ottima difesa, anche se oggi la difesa ha sostituito l'attacco, se lei considera che il gollo è venuto dai tre difensori, è partito da Nicoletti, poi Gamberetti se ben ricordo e poi Rigio di Teste, quindi tutto questo, qual è la sua disamina? La disamina è questa, effettivamente era da tanto tempo che non vincevamo in casa, per noi era di vitale importanza vincere, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, come a Cosenza, e da questo punto di vista questa squadra ha dimostrato di essere una squadra che sapeva quello che doveva fare e sapeva come andare a prendere questa partita, quindi sono molto contento, è normale che in casa abbiamo dovuto lasciare il pallino del gioco a loro e questa a me non piace tanto, però in questo momento la partita da fare era questa e da questo punto di vista siamo stati bravi, molto bravi, perché non abbiamo concesso niente, abbiamo creato diverse palle per fare gol e per raddoppiare, quindi faccio solamente i complimenti. Poi detto questo ancora la matematica dice che manca un punto, siamo sicuramente a buon punto, è inutile che ci prendiamo in giro, però ancora manca un punto e quindi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto da quando sono arrivato io qua, da questo punto di vista, insomma l'ho sempre detto, i ragazzi mi hanno sempre dato grande disponibilità al lavoro e la prossima settimana dobbiamo fare lo stesso. Buonasera Ministro, ci si aspettava qualcosa in più da questo Iracusa, lei stesso per primo forse l'aspettava, vista considerata la situazione di classifica, quello che potrà avvenire in settimana, però abbiamo visto poco, molti fraseggi, un discreto possesso palla, però poi come concretezza poco o niente. Sì, mi aspettavo molto di più dalla mia squadra, più sotto l'aspetto dell'atteggiamento, perché comunque nel primo tempo le occasioni che ha avuto il Catanzaro le abbiamo concesse per nostri errori e per nostra superficialità e questo non ce lo possiamo permettere in virtù anche dell'ennesimo riferimento che è arrivato l'altro giorno. Sono un bel po' arrabbiato con la squadra perché l'atteggiamento deve essere diverso, poi le partite si possono anche perdere perché ci sono gli avversari, il Catanzaro è una buona squadra che ha fatto la propria partita, sicuramente all'inizio ci temevano un po' perché ci aspettavano molto bassi e noi abbiamo pensato di essere più bravi, se noi pensiamo di essere più bravi degli avversari possiamo perdere come questo campionato lo dimostra contro chiunque e oggi abbiamo peccato di superficialità specialmente nel primo tempo, poi nel secondo è normale che con il vantaggio del Catanzaro avendo anche giocatori bravi ed esperti hanno portato la gara sui loro binari come questa categoria vuole, anche con alcune furbizie ma non cose gravi, perdere un po' di tempo sono cose che fanno parte del gioco, non voglio assolutamente accusare nessuno però quando passi in svantaggio contro una squadra esperta come il Catanzaro sul loro campo dove loro si giocano tantissimo ci sta, fanno parte del gioco, dà fastidio però fa parte del gioco.